E-Gay Sports, it's in the gay E ciao a tutti ragazzi Bentornati sul mio canale, l'avete già visto da qualche parte prima d'ora E oggi abbiamo deciso di fare una mattata E arrivare a giocare il primo gioco per PS4 su PS5 Tu ti ricordi quei mondiali lì? Siamo nel 2014, quello in Brasile No, non mi ricordo Io mi ricordo molto bene Tra l'altro furono anche dei mondiali dove avevamo tante aspettative Perché la squadra che abbiamo portato ai mondiali era più o meno, anno in circa Quella che si portò agli europei due anni prima E appunto si arrivò in finale con la Spagna Quindi c'erano grandi aspettative Avevamo un girone anche piuttosto apportabile In Inghilterra, Costa Rica e Uruguay Sì E tra l'altro dicevamo Vabbè dai, giusto l'Inghilterra può arrivarci davanti Ma figuriamoci se ci arriva davanti Uruguay e Costa Rica In effetti l'Inghilterra arrivò prima Con la classifica al contrario E tra l'altro eravamo talmente speranzosi di quel mondiale Che addirittura la gazzetta dello sport fece un'edizione Che fu l'unica nella storia Di colore azzurro invece che rosa Ne ho ancora una copia a casa Sì, è vero Trasferiamoci su FIFA 14 Che avevo già portato un video quattro anni fa Lo comprai quando costava ancora 1,50 euro Non so se il prezzo si è cambiato Ma penso di sì World Cup Brasil 2014 Patita mondiale FIFA Giochiamo su PS5 ovviamente Puoi vedere il controller Un insulto per questa PlayStation Beh ovvio Poi si può fare ancora meglio Si può giocare a Cyberpunk Che oggi è di insulti Tra l'altro anche le statistiche dell'Italia Non erano così orribili C'è tanto un attacco 82 di centro campo Adesso faccio capirlo Marchisio Tiago Motta No, io voglio fare qualcosa di più esotico Non ha senso secondo me Tu prendi chi vuoi Non ti preoccupare Allora io ti E prendo il Messico Partitone Intanto 6 minuti Ok Fantasia sullo stadio Telecronaca Fabio Caressa Vediamo chi c'era Signora squadra Zuniga Armero Armero Quadrado Un Camus Rodriguez Che dopo quel mondiale lì Esplose proprio Sì E poi imploso C'è bacca Cazzo Carlo sbacca Due anni dopo arriva il Milan Cristian Zapata No vabbè Io lo farei un pochino più forte Falcao eh 39 Io faccio i conti Con i fichi secchi Con Messico Vabbè C'ho Cicerito Hernandez Vabbè Allora Ochoa Sicuro Beh Giovanni Dos Santos Ragazzi Numero 10 Posso fare poco Col 5-3-2 C'è una difesa 5 Francisco Rodriguez Allora 30enne Quindi adesso Era in pensione Oh Hector Herrera Minchia Aveva 22 anni C'era già brutto Prima Figuriamoci adesso Com'è Bene Sostanzialmente L'unici cambi Che posso fare E mettere per alta Perché Nel resto C'è una sega di nulla Bene Direi di giocare Questa partita Tra l'altro Beh La grafica Mi sembra un po' Migliorata Rispetto alla PS4 Vabbè Zitto che è quello Però mi sembra un pochino Più chiara La cosa Vabbè Batti tu Che bello Senza telecronaca Beh Mi piace Perché era un pochino Più arcade Beh Di sicuro c'è da dire Che il Messico Ha fatto più strada Dell'Italia Quel mondiale lì A parte che ci vuole Veramente poco Minchia Come la palla Supra centro campo I tifosi Aguilar E Budello Di Tumà Bello Cicciarito Ospina E il portiere Dunabul Minchia Ancora i calci d'angolo Così c'erano E cazzo Si battono Uh Eh La toglie da coglioni No Pegna Bello È regolare Ma che cazzo Per regolare Raga Sono tutti uguali Cross di testa Cicciarito Cicciarito Mi sa di sì Mi sa di sì Cicciarito e Hernandez 1 a 0 Nel Los Angeles Galaxy Gioca adesso No La fa una finta Caramba C'è delle pelve Penso che la cosa Funziona un po' diverso Perché Mamma mia Cicciarito Che dribbling La mette dentro Ci pensa lui Ah Attenzione 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 Minchia C'è anche Guarin Ex Fenomeno dell'Inter 1 a 0 Messico Gol del Cicciarito Hernandez L'altro Un gol Molto strano Perché E' Mettamente Anticipo il difensore No Falcao No Falcao No Falcao No Grande Ochoa Merca puttana Oh L'erro Gol Ma Vaffanculo Cicciarito Montes Ed eccolo Ed eccolo Qui Si poteva esultare la banderina in quei tempi lì No No Non esisteva Proprio la trapassava Raul Chimenez Lento come la merda Maddo Santos Lo può sostituire Eeeh Che cambio di gioco Signori Cicciarito Cicciarito O spin Ma non mi direi che è fallo Perché Ah Ok Tollo per Iepes Dritto nello steam Come giallo perpegna Ma secondo quale logica della fisica è giallo perpegna In cuori lo vai Cazzo di cosa ha fatto Che fa il caos sto qua Per forza Finisce qua 2 a 1 Messico Vabbè Dai Il gameplay Mi aspettavo No Mi aspettavo peggio dal gameplay sinceramente Mi aspettavo Sono un po' delle mine Cioè Cammiano che sembra dei razzi In confronto FIFA 21 Per la PS5 Però Secondo me il gameplay Non fa un po' così schifo Guarda Ti rimporta Ti rimporta Allora Il gioco fuori casa è questa volta Tra l'altro però vado in Europa Se prendo CR7 Mi spari Guardi Cazzo L'Olanda è fortissima Anche la Spagna non scherza eh E prendo Il fiumma Se prendo CR7 Mi spari Stesso stadio Guarda giochiamo di giorno stavolta Si può giocare in inverno? Si possono fare i mondiali in Brasile d'inverno Fantastico Allora Pizzi Bruma Adrien Silva Che è quello da Sampdoria Eder Quello che due anni dopo decise l'europeo Edoardo Ex portiere del Genoa Che i tifosi adesso Non vogliono ricordare Ugo Almedan William Carvaio Cristiano Ronaldo Però io voglio mettere Ronaldo Punta posso? Pepe era solo 83 E poco eh Ah beh No ci metto attaccante sinistro Scusate ma Ci metto Danny Luke de Jong C'era già Luke de Jong Eh si Adesso dove sta al Barcellona Del Siviglia E lui Luke de Jong è del Siviglia Adesso dove sta al Barcellona Non è messo da Barcellona Non è messo da Barcellona Giochiamo Sti mondiali d'inverno Batte il Zoom E attenzione Eccolo Eccolo il Zoom Che non esultava ancora così eh Risultava con Era un po' più umile una volta Di palonetto il Zoom Dopo 4 minuti No non era Snyder Van Persi Gol No vabbè regolare Sì a rivederlo è regolare Di Perlini sembra fuori gioco nettissimo Non ha fatto come Ronaldo contro Udinese Devi scattare testa di minchia Eh no era attaccante sinistra Ronaldo L'ho messo in punto io Danny 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 Eh beh Quell'87 di velocità scatto A qualcosa servirà no? La risultanza qua non ha veramente senso Grazie RONALDO La doppietta del Zoom Che fa il gattino No ho potuto fare il re 1 cerchio Che ha le risultate di Ronaldo su FIFA quelli nuovi Ma evidentemente il re 1 cerchio è il gattino Cristi Ano Ronaldo Non mi preoccupa Ma che portere di merda è lui Patricio Ma fa cacare la merda E mi Ma vaffanculo Robin No Tutto era sotto controllo Ora non lo è più Nice Oh il Zoom ha defilato Ma devi mettere sul secondo palo Testa di minchia No 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 Grande lui Patricio Si è svegliato Abbiamo un portiere Abbiamo un portiere Signori Abbiamo un portiere Abbiamo un portiere Abbiamo un portiere Si Dai E finiamo tempo Sto sudando Vabbè non faccio cambi Vado diretto I migliori anni Del nostro FIFA Vabbè Uggio Mutigno Non ci voglio credere E' il gol che mi riesce di più Ma erano calibrati peggio i tiri una volta Questa FIFA 21 entrava Uh che pallina per CR7 Vaffanculo CR7 Pia 29 Cross Bella Nani Nani È il mio triangolo Lui Nel nostro FIFA Era molto più facile Fare i gol Averso i cross Si è vero Ronaldo Ha fatto una cagata Lo so Vabbè Oh Importa Importa che è arrivato Esatto No Pepe 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 No Strootman Vaffanculo All'ottantesimo Non ci voleva Cioè capisci Appunto Uh il Zium Il Zium Il Zium Attenzione Non è Danny Allora vuol dire che il Zium è qui No Miguel Peloso E Ronaldo ancora fiato E Ronaldo E Ronaldo E Ronaldo E il Zium No Dai No Danny Mamma mia Forma Cioè li devi fa una statua Cerca il Zium Cerca il Zium Ma no Classica Fai me lo devi spiegare Che cosa è? Aspetta 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 Che cazzo ha fatto Con il tuo tiro lì? Che cazzo ha fatto Ti ha salvato Ma il culo Ma che cazzo ha fatto Per perdere la palla lì? È premuto X Bella Bella No Vabbè Dai È una maledizione Anche perché Se si fa i rigori Poi voglio ridere Non so Bella Bella Sì Sì Che cazzo è stato? Mutigno Mutigno Anderà come si Primeggia Col fisico Colpo di testa E un buco d'angolo Che bello Che bello evitare i rigori No Non è ancora finita No Grande È un grande Finisce qui Che bucio di culo Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciatevi al video Iscrivetevi al canale Fatemi sapere nei commenti Se volete anche il video Del mondiale del mondiale 2018 Vabbè sono recenti Tre anni fa Ma comunque Farò una piccola rivisitazione Nel passato Non fa mai male Grazie della Bisogna di questo video E a presto